Coraggio, ora ci vuole una foto mentre fai il discorso Vado subito Il proprietario di una lasabra del 95 parcheggiata in divieto di sosta si recchi subito nella hall È la mia auto Una lasabra del 95 Certo È verde la sua auto Certo Mi dispiace molto ma questa è azzurra Certo, verde e azzurra, sì Ecco, vado subito a spostarla allora Coraggio